Amici e amiche di Player Inside, sì, grazie per averlo chiesto, effettivamente l'occhio è completamente guarito e adesso ci vedo perfettamente. E vedo che in questo momento siete al cesso, a guardare le news. Alcuni di voi però stanno mangiando, altri stanno ancora dormendo ma non si sa come guardano comunque le news, insomma, è domenica, è l'ora delle news. Ciao Uccio, sì, sì, alla fine quel gioco lo prendo, eh, e mettimi da parte anche quella Collector's, sì, 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 senti però fammi lo sconto, eh, anzi, lo scontuccio. Ha riattaccato. Comunque, siccome il mio amico Uccio, spero voglia essere ancora mio amico almeno, è stato contento dell'ultima promo che abbiamo fatto insieme perché avete letteralmente spaccato il suo sito di vendita online, illivellosegreto.it, mi ha chiesto questo nuovo spazio promozionale che gli concedo volentieri perché, sapete come sono fatto, mi piace aiutare gli amici in difficoltà. Scusate un attimo. Ma quale difficoltà, quale cose, per fortuna, vanno a gonfie vele e soprattutto non mi hai aiutato tu di tua spontanea volontà, ti ho corrotto io palesemente con due Collector's Edition che cercavi. Sì, ok, Uccio, ok, perché la lascio nel video questa parte? Comunque, si ripete lo scontuccio su tutti i prodotti sul sito illivellosegreto.it, ad eccezione dei prodotti in preordine e del servizio di grading. E tutto questo solo per oggi. Per esempio, PS5 Pro vi costerebbe 719,99€ anziché 799,99€. E lo sconto del 10% col codice PLAYERINSIDE10 è applicabile su tutte le limited, tutti i gadget, su tutti i titoli del momento. E sì, si applica sul totale degli acquisti, per cui se andate su illivellosegreto.it e acquistate una serie di prodotti per un totale, mettiamo, facciamo un esempio, di 1000€, lo sconto finale totale sarà di 100€ su 1000€. E anche stavolta non mancano i preordini sottocosto, tra cui BLACKMITHWKONG in edizione fisica, Dragon Quest III HD 2D Remake, Donkey Kong Country Returns HD, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon, Pirate Yakuza ed altro ancora. E ci sono anche i Funko Pop a partire da 10€. Preparate il codice PLAYERINSIDE10, andate su illivellosegreto.it e pronti allo scontuccio. Oh Gianlu, non è che hai detto di nuovo scontuccio nel video, vero? No. Perché stavolta vado di denuncia, eh? No, no, non l'ho detto. Tramite il suo CEO Strauss Zelnick, Take-Two ha confermato l'uscita di GTA 6, stabilita per il periodo fiscale che va dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026. Il che verosimilmente vuol dire entro il 2025 e plausibilmente entro l'autunno del 2025. Ma Zelnick, il CEO di Take-Two, che non le manda a dire che non ha una visione del mondo videoludico pro-consumer, cioè a favore dei consumatori. Comunque a Zelnick è stato chiesto se su Xbox Serie S GTA 6 non sarà una chiavica. Ebbene Zelnick ha risposto che il suo team sa ben adattare i vari giochi a tutte le varie piattaforme. E a tal proposito Zelnick ha anche aggiunto che tutte le piattaforme su cui girano soldi e clienti sono comunque interessanti. Anche il PC, che è un universo a parte e che effettivamente è sempre più in voga, secondo Zelnick è interessantissimo. Ma allora perché non far uscire GTA 6 al day one insieme alle versioni console? Lo sappiamo tutti perché. Annunciati i finalisti per i Golden Joystick Awards per il premio Ultimate Game of the Year. Si tratta dei giochi che state vedendo qui in sovraimpressione, sì insomma ci sono i giochi più importanti di quest'anno, anche se mi dispiace vedere Dragon Age The Veilguard che ho bocciato in recensione e non vedere Like a Dragon Infinite Wealth. Comunque sono gli utenti a votare, scopriremo il vincitore il 17 novembre. Attenzione, questo premio non è da confondere con i The Game Awards veri e propri che ancora non hanno annunciato né le categorie né i nominati. E secondo me quest'anno ci sarà da divertirsi. Nella settimana appena trascorsa ed è uscito a tal proposito un nostro salottino sul secondo canale Player Inside 2, canale al quale vi invitiamo caldamente ad iscrivervi, il presidente di Nintendo, Shintaro Furukawa, ha dichiarato che Nintendo Switch 2 sarà annunciato entro e non oltre il 31 marzo 2025 e che sarà retrocompatibile. Non si sa ancora se questa retrocompatibilità avverrà tramite supporto fisico, quindi cartucce da inserire in un apposito slot a parte oppure nello stesso slot opportunamente scanalato apposta per fare inserire le cartucce di Nintendo Switch e di Nintendo Switch 2, oppure se tale retrocompatibilità riguarderà i giochi per Nintendo Switch 1 ma soltanto in formato digitale scaricabile. E a tal proposito, immagino intanto come deve essere lo sfondo rosso con questa felpa rossa, vi starà avvenendo come minimo l'epilessia, e a tal proposito, su come sarà la prossima console di Nintendo, che per adesso chiameremo ancora per comodità Nintendo Switch 2, si è discusso della sua natura ibrida. Potrebbe non essere una console portatile da casa come adesso è Switch? Ebbene uno dei dirigenti di Nintendo, Ko Shiota, ha affermato, parlando agli investitori, che la fusione tra console domestiche e console portatili ha permesso a Nintendo di integrare quelli che prima erano due ambienti di sviluppo software separati, e che l'intenzione della casa di Kyoto è quella di mantenere una base simile per gli ambienti di sviluppo in futuro. Insomma, signori, non c'è l'ufficialità né sul nome né su come sarà questa benedetta console, però considerando che Nintendo vuole mantenere anche il servizio Nintendo Switch Online, possiamo effettivamente pensare che la console continui a chiamarsi Switch, però non sappiamo se è ancora Nintendo Switch 2 o Super Nintendo Switch o in altro modo, come si vociferava qualche tempo fa, ma che abbia questa sorta di aspetto ibrido console portatile da casa non è stato confermato ufficialmente, ma poco ci manca. Dopo aver portato avanti una politica di esclusività PlayStation non sempre chiarissima, Square Enix sembra che stia cambiando strategia. Infatti il director di Final Fantasy XIV e Final Fantasy XVI, Yoshida, ha affermato che d'ora in poi dobbiamo aspettarci che Square Enix pubblichi su tutte le piattaforme contemporaneamente. Ha preso come esempio Phantasy and New Dimension, che uscirà a lancio anche su Xbox. Chissà se questo includerà anche la conversione dei primi due capitoli del remake di Final Fantasy VII. Volete sapere com'è il nuovo Dragon Age The Velgard? Secondo un'appassionata di Bioware e di Dragon Age nella fattispecie, è bene uscita la recensionona di Midna. Che, signori, è davvero da non perdere, anche perché in certi momenti sembra essere, giustamente, quasi una sorta di rant. Triste, severo, ma giusto. Recuperatela cliccando sul link che trovate qui sopra da qualche parte. Non imparerò mai dove esattamente. Ehi, amici di Player Inside, questa settimana uscirà la prima puntata della nuova stagione di Collectors. Sono contentissimo ed emozionatissimo di presentarvela in questa maniera, ma per adesso non vi faccio spoiler su chi saranno gli ospiti. Abbiamo lavorato tantissimo su questa nuova stagione, ovviamente siamo andati a casa della gente a rompere le scatole, perché questa serie si basa sul guardare le collezioni degli altri e parlarne insieme proprio alle persone che ci hanno ospitato a casa loro, o nel loro studio, o nel loro ufficio, insomma, dove tengono la collezione. E Collectors, vorrei ricordarvi, mentre guardate alcune immagini provenienti dalla prima stagione, non è soltanto una serie in cui si guardano le collezioni per la morbosa tentazione di farsi i fatti degli altri. Quello sì, siamo d'accordo, quello anche. Ma è anche una serie in cui si scopre il percorso dei collezionisti, dei videogiocatori in generale, di come hanno vissuto i videogiochi e di come le vivono tuttora, anche grazie alle loro collezioni, che dicono tanto dei giocatori che sono. Quindi, signori, neanche a dirlo, speriamo vogliate seguire questa nuova stagione di Collectors, la cui prima puntata della seconda stagione arriverà giovedì alle ore 13.45. Sintonizzatevi qui su Player Insight. Grazie. Il capo di Sony PlayStation, Iroki Totoki, ha dichiarato che collegare un account PSN ai videogiochi PC è purtroppo necessario ed è fatto per i videogiocatori a fin di bene, per proteggerli. Sostanzialmente Iroki Totoki di Sony ha dichiarato che in questo modo si possono proteggere gli utenti anche su PC, che usufruiscono dei titoli di Sony, first party e second party, su personal computer appunto, possono essere più protetti a livello di sicurezza, facendo parte tutti dello stesso ecosistema PlayStation Network. Il dubbio che questa però sia tutta una fregnaccia sopraggiunge perché questa protezione, questa forma di sicurezza, nello stesso account PlayStation Network, condiviso sia su PC che su PlayStation, o anche solo su PC, potrebbe effettivamente reggere nel caso dei giochi Always Online. Ma nel caso di giochi single player, sopraggiunge più l'idea che possa trattarsi semplicemente di un counter, ovvero conteggiare ulteriori iscritti a PlayStation Network anche per chi gioca da PC, che normalmente giocherebbe gli stessi giochi da Steam o altre piattaforme di distribuzione. Iroki Totoki di Sony ha detto la sua anche sul fallimento drastico di Concord, sostenendo che però questo non scoraggerà l'azienda a proporre altri live service in futuro. Semplicemente Totoki sostiene che bisogna imparare dai propri errori ascoltando di più l'utenza e facendo dei beta test quando opportuno. Sony è ancora convinta di voler affiancare i giochi single player, che sono i cavalli di battaglia dell'azienda IP collaudate, con i giochi live service, che man mano aumenteranno di prestigio e di importanza, seguendo l'esempio di un caso di successo come il Divers 2, o facendo ancora meglio. Azzeccando inoltre le finestre di lancio di questi giochi, che altrimenti rischiano di perdersi un po'. Nella settimana appena trascorsa è stato annunciato che Death Stranding di Kojima Productions uscirà anche su Xbox, Re X ed S e PC. Oltre che su Amazon Luna. Questo potrebbe essere l'inizio di un cambiamento? Anche Sony si aprirà l'ecosistema Xbox portando su Xbox alcune delle sue più importanti esclusive? Molto probabilmente no, perché effettivamente per Death Stranding la situazione è particolare, considerando che c'è di mezzo anche Kojima Productions come proprietà intellettuale. Dopo un periodo di calo per Warner Bros Games, culminato col flop di Suicide Squad, Kill the Justice League, ma anche Multiversus, l'azienda ha affermato di volersi concentrare solo sulle sue serie più remunerative, ovvero Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones e Batman. Warner Bros Games infatti dopo i recenti fallimenti ha registrato una perdita di circa 300 milioni di dollari e quindi intende arginare il problema riducendo la quantità di giochi per puntare sui cavalli vincenti. Che poi è un po' la strategia che vuole intraprendere Ubisoft, concentrarsi sulle sue serie più forti, Assassin's Creed, Far Cry e compagnia cantante. Vi ricordate la questione di cui abbiamo discusso qualche settimana fa di Nintendo e The Pokemon Company contro Palworld? Ebbene c'è un'evoluzione perché Pocket Pair, la compagnia di Palworld, ha svelato alcuni retroscena. Nintendo e The Pokemon Company avrebbero fatto infatti un'ingiunzione contro Palworld, il blocco delle vendite del gioco, oltre a un risarcimento di 10 milioni di yen da dividere tra Nintendo e The Pokemon Company. La questione riguarderebbe ben tre brevetti registrati da Nintendo e The Pokemon Company nel 2021 e che in realtà rivelano elementi di gameplay piuttosto generici, non necessariamente riconducibili a meccaniche presenti nei giochi di Pokemon per le quali Nintendo e The Pokemon Company sembra possano rivalersi. Uno di questi riguarda infatti il meccanismo di cattura tramite Pokeball dei Pokemon che somiglierebbe a quello usato in Palworld. Tuttavia, Pocket Pair ha dichiarato di voler combattere contro Nintendo in tribunale a tal proposito e di non voler mollare la presa, anche perché non sono tanto i 10 milioni di yen a preoccupare Pocket Pair, poiché equivalgono a circa 60.000 euro nostri, ma il blocco totale delle vendite del gioco, il che sarebbe decisamente un grande problema. Inoltre, secondo Pocket Pair e secondo i suoi avvocati, questi brevetti di Nintendo e The Pokemon Company sarebbero i cosiddetti brevetti killer, ovvero studiati appositamente per colpire nel vivo l'azienda rivale. Chi lo sa? Ecco, Raiden ha affidato a me questa notizia. È stata annunciata la serie TV Prime Video di Mass Effect e lo sceneggiatore è quello di Fast and Furious 9. Non si sa altro, ragazzi, ma io in questo momento non sono entusiastissima. Sì, lo so, Fallout è uscita fuori una bellissima serie che funziona bene, però Fallout comunque è una serie di videogiochi in salute e si presta anche molto bene a creare nuove storie in varie parti, insomma, degli Stati Uniti. Di Mass Effect è probabile che vogliano riesumare Shepard, crearne uno canonico e riassumere la sua storia per una serie TV. Spero non sia così. Ecco, vedremo. Sappiamo bene che cosa sta passando Ubisoft in questo periodo, ad alcuni dispiace, ad altri manco per il cap. Comunque una cosa è sicura, Assassin's Creed Shadows è stato rinviato al 14 febbraio 2025. E in occasione dei BAFTA, ovvero le premiazioni inglese per film, televisione, arte in generale, il capo di Assassin's Creed, Mark Alexis Coté, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla storia del presente. Secondo lui, dopo l'archiviazione della storia nel presente che vedeva come protagonista Desmond Miles, l'interesse per i fatti narrati nei giorni nostri è decisamente calato, poiché si trattava di storie di circostanze che non hanno avuto lo stesso impatto e che al massimo ponevano il giocatore dinanzi ad una sorta di situazione di controllo su reliquie antiche da parte di templari da un lato e assassini dall'altro. Ebbene, sembra che con Assassin's Creed Shadows si voglia riportare l'attenzione sulla storia del presente, ripristinandole e dandole dignità, in modo tale da coinvolgere maggiormente i giocatori che nella storia del presente ormai non vedevano più giustamente alcun mordente. E questo è interessante, signori, anzi, interessantissimo. Inoltre, Cotea ha dichiarato anche che Assassin's Creed Shadows è stato rinviato anche per via di ciò che era successo dieci anni fa con Assassin's Creed Unity, ovvero il gioco era stato reso disponibile al lancio, ma con un sacco di bug che ne avevano minato la bontà. E si era parlato soprattutto dei bug, lo avevamo fatto anche noi, mentre in realtà è uno dei capitoli più riusciti sotto sotto, ma fu unestato da talmente tanti bug che tutto sommato passava la voglia di giocarci, almeno al lancio. E quindi Cotea ha voluto far capire che Ubisoft non vuole ripetere gli errori commessi con Assassin's Creed Unity al lancio. Ora, viene da pensare, ma se Assassin's Creed Shadows sarebbe dovuto uscire praticamente adesso, si sono accorti ad ora che ci sono questi bug e queste cose che non vanno? A me sembra un po' una scusa, però senz'altro il proposito è lodevole. Anzi, sostiene Cotea Assassin's Creed Shadows, dovrà far ricredere tutti i detrattori di Ubisoft in merito alla qualità della serie e dei prodotti Ubisoft in generale. Megoglioni. Thomas Mahler, autore di Ori, ha scritto un lungo post su X in cui si è detto molto stupito e dispiaciuto per la scrittura di Dragon Age of Elgard, definendola infantile, terribile, sterile e disumanizzata. Non si spiega come all'improvviso una cosa del genere possa essere considerata accettabile e ha definito gli scrittori di Bioware incompetenti che non dovrebbero fare questo mestiere. Beh, parole forti Mahler, ma io sostanzialmente sono d'accordo e ne ho parlato ampiamente anche in recensione. Se ci facciamo andare bene Dragon Age of Elgard, rischiamo di andare incontro ad un'era videoludica molto buia. Annunciata la data per l'early access di Inzoi, il nuovo The Sims coreano. Il gioco avvierà il suo accesso anticipato il 28 marzo 2025, quindi ci sono ancora un po' di mesi davanti. Speravo uscisse per Natale, per adesso dovremo accontentarci dell'editor del personaggio che è gratuito su Steam. Una bella notizia per la serie Yakuza che adesso si chiama Like a Dragon. Infatti Sega ha annunciato che la serie ha superato le 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Certo, stiamo parlando di molti capitoli usciti, ma si tratta comunque di una serie di nicchia che man mano sta venendo conosciuta e apprezzata da un pubblico sempre più vasto. E visto che Sega è in vena di buone notizie, in questo caso di conferme più che altro, apprendiamo che ci sono diverse serie classiche in sviluppo attualmente. Confermati Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi e adesso anche un nuovo Virtua Fighter in fase di sviluppo. Cos'è il mio compleanno? Ecco i giochi che si aggiungono al Game Pass nella prima metà di novembre. Per quanto riguarda il Game Pass standard abbiamo Go Make a Ball, Harold Halibut, The Rewinder e Turnit Boy Robs a Bang, tutti già disponibili. Invece per il Game Pass Ultimate abbiamo Meta Slug Tactics, Goat Simulator già disponibili e dal 19 novembre Microsoft Flight Simulator 2024. A partire dal 14 novembre su Epic Games Store sarà completamente gratuita la raccolta Castlevania Anniversary Collection, avete una settimana di tempo per farla vostra. E adesso la sottorubrica preferita da tutti, in particolare da tutti quelli che oggi soffriranno dello scontuccio. E quel cringe anni 90 che mi fa ridere, un po' mi fa venire la pelle d'oca, sì. Anziosi per l'uscita di GTA 6? Anzi, ansiosi per l'uscita del secondo trailer di GTA 6? Beh, lo siamo un po' tutti, sì. Questa non è razionalità, ma tant'è. Ebbene, alcuni fan avrebbero calcolato la data d'uscita del secondo trailer del gioco guardando la luna. E adesso una nuova immagine che vedete qui di seguito mostrerebbe nuovamente una luna gibbosa calante con alcune macchie lunari che formerebbero un 5 e un 1, ovvero il numero 6 romano. E quindi, in base a questi calcoli, il secondo trailer di GTA 6 dovrebbe arrivare il 17 novembre 2024. Anche se in realtà Rockstar di queste sparate ce le ha. Non si fotte con Nintendo, ma alcuni ci fottono comunque bellamente. E' il caso dello streamer Every Game Guru, che non solo avrebbe streammato usando copie pirata di giochi Nintendo Switch, ma avrebbe invogliato anche la sua utenza a usarli, fornendo link e suggerendo i modi per poter usare emulatori e ROM. Nintendo, neanche a dirlo, lo ha ufficialmente denunciato, ma lui di tutta risposta ha voluto sfidare Nintendo, sostenendo di avere circa un migliaio di canali secondari da cui streammare e di poterlo fare tutto il giorno. Allora, amico mio, intanto non hai capito che con Nintendo non si fotte e già ci hai fottuto bellamente, tant'è vero che ti è arrivata la denuncia ufficiale, potresti finirla qui e moderare i danni. Ma non sai neanche che quando ti bannano da una piattaforma, ti bannano anche tutti i possibili canali che tu puoi creare qualora ti venisse chiuso uno dei canali, per motivi così gravi come copyright infringement. Eh? Amico mio, ti fotte con Nintendo perché loro sanno dove fotterti. E questo è il punto. PS5 Pro, magari non l'avete acquistata, magari non l'avreste comunque fatto e magari siete proprio in questo momento sotto qualche recensione a parlarne male. Ma saprete senz'altro che molti bagarini l'hanno rivenduta al rialzo nei giorni scorsi. Ebbene, poiché non c'è più tutta questa richiesta di PS5 Pro e poiché le scorte sembrano essere ben fornite da parte di Sony, tant'è vero che sembra essere rimasta invenduta in molti negozi, i bagarini sembra che in alcuni casi la stiano vendendo in perdita rispetto a quanto l'hanno acquistata. Madonna come godo, ragazzi! Questa domenica d'improvviso è diventata straordinaria! Acchiappatela nel culo, bagarinazzi! Nel culo! Donkey Kong Country 2 Didis Kong Quest per Super Nintendo dopo 29 anni fa saltare fuori un nuovo cheat code che permette di uscire dal livello in cui si è per tornare alla mappa principale in qualsiasi momento. Il cheat code è stato scoperto dopo quasi 30 anni appunto dall'utente TNKT Kong su X e si effettua premendo contemporaneamente questi tasti che state vedendo in sovraimpressione durante la pausa. E queste sono le cose belle dei giochi di una volta, che ancora dopo quasi 30 anni continuano a cicciare fuori i segreti. E anche per questa settimana in particolare, questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita, graditissima preferenza. Vi rimandiamo all'appuntamento di domani alle 21 come ogni lunedì sera in live con Contro News e ciao! Chissà se questo includerà anche la conversione dei primi due capitoli della... di tua sorella? Chissà se questo includerà anche la conversione dei primi due capitoli della... di tua madre? What? Chissà se questo includerà anche la conversione dei primi due capitoli della... di tua madre? No! 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 Grazie a tutti.